Scusi Divino, senta, noi siamo a Mestre, al Centro Culturale Cantiani, che per la prima volta vede uno spettacolo di questo genere. Mestre, per me mette a Divino, che a Capri gli fa un culo così. Noi benediciamo il popolo di Mestre che si è riunito per renderci un altro. Beh no, si è riunito per altri motivi Divino, ma comunque, va bene, applauso dal popolo di Mestre al Divino Delma.